La tua famiglia, la tua casa, i beni più preziosi. Proteggerli ed averne cura è da sempre la nostra missione. Per questo siamo con te, sempre. Con sistemi di sicurezza evoluti, efficaci, italiani. Per rendere più semplice la tua vita, ovunque tu sia. Finalmente puoi aprire la porta alla sicurezza e respirare un profondo senso di tranquillità. Gestire la tua casa con un semplice tocco. Prevenire ed evitare pericoli. Avere tutto sotto controllo significa vivere serenamente e senza preoccupazioni. Con Inim è facile sorvegliare ogni ambiente ed essere allertati attraverso qualsiasi tuo dispositivo personale. Sicurezza e domotica sono il connubio perfetto per rispondere ad ogni tua esigenza. Ed essere al sicuro nella propria casa diventa un gioco. Non rimane che godere dei nuovi comfort grazie all'accessibilità delle nuove tecnologie pronte a soddisfare ogni tuo comando. Google, abbassa le luci e inserisci l'alarme perimetrale. Inim, la sicurezza di avere accanto noi.